Buongiorno, grazie a tutti, grazie dell'invito. Io mi seguo un momento perché sono qualche pomo da vedere. Bene, io sono molto contento di essere qui oggi, per tante ragioni, sia perché rivedo tante persone che conosco, sia perché ho l'occasione di riflettere pubblicamente intorno a un tema che mi interessa parecchio, che è quello di come coniugare la clinica con l'organizzazione, soprattutto nell'ambito psicologico, che è quello di cui noi ci occupiamo, di cui mi occupo. Devo dire che aver ascoltato adesso Orseligo in questa sua presentazione, avevo avuto occasione di leggere, prima di venire qui, alcuni spunti delle sue slide e mi aveva colpito particolarmente e mi avevano colpito particolarmente alcuni concetti, in particolare questo del generare nuove opportunità, creare nuove relazioni che credo sia una cosa estremamente importante, una metodologia estremamente importante per quel che riguarda la coniugazione della clinica con l'organizzazione, quindi con i contesti in cui concretamente si opera. L'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, sulla quale ho poi deciso di focalizzare il mio intervento, è quello del percorso che la psicologia e gli psicologi devono fare come professione, ma anche come cultura, soprattutto come cultura professionale e quindi come identità, come rappresentazione di sé professionale, per passare da una identità professionale privatistica centrata fondamentalmente sulla storia della psicologia e della psicoterapia nel mondo in Italia, a una identità professionale di servizio, di servizio pubblico e di una organizzazione all'interno del servizio pubblico che eroga prestazioni e servizi. Credo che questo sia un passaggio, quest'ultimo, in cui siamo ancora parecchio indietro, siamo abbastanza giovani e anche normali, giovani come professione nel servizio pubblico. Credo che però sia le nostre università che i corsi di specializzazione siano parecchio indietro invece su queste tematiche. E' vero che fa sorridere, però certamente è reale, ci sono molti colleghi giovani specializzanti che, molti, io direi tutti, che ignorano, letteralmente ignorano come sia organizzato il servizio sanitario, ma soprattutto come sia organizzata la psicologia dentro i servizi sanitario. E credo che questo sia un grosso problema, non solo culturale di identità, ma anche di programmazione degli studi, dei programmi di studi. Nelle diapositive, io volevo partire da questa... Giuseppe Sanmartano, che è un collega siciliano, che in un suo libro che ha editato nel 2001, mi aveva colpito questa frase che riguardava il fatto che il più grosso problema per quello che riguarda la psicologia come disciplina è che dobbiamo guardarci soprattutto da quello che gli psicologi dicono in maniera frammentata, discorsiva, formativa, pragmatica, istituzionale, piuttosto che non, i psicologi dicono di se stessi, piuttosto che non della complessità che è legata all'operare psicologicamente nelle istituzioni. Allora, io direi che partirei dall'aziendalizzazione, dal processo di aziendalizzazione anche in Italia negli anni 90 del secolo scorso, l'ultimo decennio del secolo scorso, perché è fondamentale, perché corrisponde, a mio avviso, con un momento storico estremamente importante di riorganizzazione di tutto il sistema sanitario nazionale all'interno del quale la psicologia ha potuto, laddove ha voluto, laddove è stato reso possibile, cercare di incominciare a riflettere su di sé e sui propri modelli organizzativi e incominciare a proporre, fine del secolo scorso, l'ultimo decennio, una diversa organizzazione della propria servizio. E quindi, diciamo, ho voluto così segnalare questo, perché storicamente credo che quell'appuntamento e quella sfida dell'azienda di aziendalizzazione, al di là del significato di cosa era e di quello che è stato e di quello che è in questo momento, dal punto di vista culturale e politico, l'aziendalizzazione, come si è sviluppato, al di là di questo, quello secondo me è stato un appuntamento storico dove c'è stata la possibilità di favorire, come dico, la promozione del governo clinico e della sostenibilità degli interventi psicologici e quello anche di promuovere una politica per riorganizzare il governo delle risorse professionali e dei processi di lavoro psicologici all'interno delle neoaziende. Evidentemente questo è accaduto a macchia a pelle di leopardo nella nazione italiana, nel senso che in alcune regioni, in alcune province questo è avvenuto a misura maggiore o minore, in altre non è per nulla avvenuto o è avvenuto con modalità completamente differenti, però ripeto storicamente credo che quello sia stato un primo tentativo di passare da un'identità professionale psicologica a un'identità di servizio, di psicologia all'interno del servizio pubblico, del servizio sanitario nazionale. Qualche piccola semplicemente definizione, insomma in questo momento ci sono alcune vari modelli organizzativi della psicologia, io evidentemente porterò qui alcune riflessioni che riguardano quello che mi è più vicino, io in questo momento sono direttore della struttura complessa di psicologia, una delle due strutture complesse di psicologia dell'azienda provinciale di Trento, della provincia autonoma di Trento, io lavoro nella parte sud, nel stretto centro-sud del Trentino e quindi è evidente che le riflessioni che farò da questo momento in avanti, i dati che vi farò vedere sull'efficacia degli esiti, qualche piccolo dato o sugli aspetti dei processi, sono tutti evidentemente legati a quella che è la mia esperienza attuale di questi anni e quindi risentono indubbiamente del mio particolare punto di vista, ma è evidente che questo è anche la cosa che io riesco, questo è il contributo migliore che io posso dare a voi. Noi vi farò vedere velocemente alcune slide sui percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, perché tra gli strumenti di riorganizzazione delle modalità di erogazione di servizi psicologici alla popolazione, questo strumento, cioè la possibilità di costruire intorno a dei problemi o a delle popolazioni problematiche, dei processi di lavoro condivisi tra gli operatori e finalizzati a raggiungimento di alcuni obiettivi di salute, esiti di salute, che noi chiamiamo, che sono stati chiamati tra l'altro anche percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, è stato ed è uno degli strumenti più citati, forse più citato che non realmente realizzato, oppure se viene realizzato poi è stato realizzato sempre con degli adattamenti molto legati ai contesti organizzativi e alle risorse presenti nei territori in cui si è realizzato, quindi come sempre non si è realizzato il modello teorico, ma si sono realizzati i percorsi che concretamente erano sostenibili all'interno di quei territori. Di norma appunto i percorsi si costruiscono facendo un confronto tra le linee guida, che sono evidentemente quei documenti irraggiungibili, mitologici, che sono fatti dai gruppi di colleghi, di professionisti, gruppi interprofessionali di solito, che costruiscono, diciamo, sulla base delle evidenze scientifiche e di altro genere, i percorsi ideali per far fronte, per rispondere ad alcuni bisogni sanitari, quindi un confronto tra quello che dovrebbe essere e quello che è, cioè quello che realmente viene fornito all'interno delle realtà e quindi attraverso l'analisi degli scarti tra l'ideale e il reale si costruisce poi, si cerca di migliorare evidentemente i percorsi reali adattandoli il più possibile a quello che sono le idealità, ma sempre tenendo presenti le risorse, perché queste sono fondamentali. Però i percorsi diagnostico-terapeutici ci hanno consentito di cominciare a lavorare sui finanziamenti, cioè la possibilità di conoscere, per esempio, un percorso nella sua completezza ci dà anche la possibilità di cominciare anche a sapere quanto costi. Questo è un ragionamento che poi per noi in Trentino, lo dico tra parentesi perché dopo li citerò velocemente, ha dato luogo nel 2010 alla costruzione dei livelli essenziali di assistenza psicologici del Trentino, della provincia autonoma di Trento, che sono praticamente livelli lea aggiuntivi, lea nazionali, provinciali, che sono stati resi possibili solo alla luce di questo lavoro iniziato anni prima, che si è consentito e ci consente in questo momento di sapere quanto costano in questo momento 114 pacchetti assistenziali che noi eroghiamo. Questo evidentemente lo dico perché tutti questi ragionamenti hanno in realtà poi, si traducono in strumenti non solo puramente retorici, ma in strumenti gestionali e organizzativi che per chi fa il direttore poi sono le cose più importanti. rispetto a prima, quando lui diceva che ci sono i pazienti rispetto ai colleghi e le istituzioni, ecco, io fino a che ero un dirigente psicologo mi contavano per me principalmente i pazienti, da quando faccio il direttore per me contano solamente i colleghi e le istituzioni, ecco, sono passato sull'altro versante, sono colleghi e istituzioni. Poi esistono i protocolli localmente concordati, qui in Emilia Romagna, in questa regione ci sono state, ci sono delle esperienze in particolare su questo, i protocolli localmente concordati si differenziano per il fatto che partono dalla prassi, dalle buone prassi esistenti e hanno come finalità quelle di omogeneizzare le buone prassi e di diffonderle all'interno dei territori, quindi hanno obiettivi diversi del PDTA e sono estremamente importanti perché sono il primo mattone, io dico sempre che se si vuole costruire in una regione, in una provincia qualcosa, bisogna partire da questo, questo è proprio il primo mattone da cui si può arrivare poi ai livelli essenziali di assistenza. Poi ci sono i percorsi integrati dove sostanzialmente dalle prestazioni monoprofessionali si integrano alle prestazioni monoprofessionali anche le prestazioni delle altre professioni che intervengono all'interno dell'assistenza rispetto a un quadro diagnostico e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi o al soddisfacimento del bisogno che ha generato il percorso sanitario integrato. Tra i percorsi integrati socio-sanitari, chiamati PIS, sono per noi molto importanti perché riguardano proprio quei percorsi di cui si diceva prima, cioè quelli con i tribunali, per esempio se PIS non è, percorsi integrati socio-sanitari che sono quelli per esempio con i tribunali dove evidentemente anche lì, oppure con adozioni internazionali, gli affidamenti, cioè laddove la psicologia entra in interfaccia con altri enti gestori, chiamiamoli così, che hanno però anche loro dei finanziamenti da mettere in gioco all'interno di questo, oltre che evidentemente con i quali collaborare. Va bene, quindi ho fatto una carrellata abbastanza veloce di alcuni degli strumenti che riguardano soprattutto i processi di lavoro, quindi le attività, in questo caso li ho chiamati percorsi, cercando molto sinteticamente di presentare quelli che nella mia esperienza hanno rappresentato i mattoni con i quali partire per costruire il muro e poi nella casa. Adesso vi faccio vedere velocemente le cinque caratteristiche peculiari organizzative, sempre di quelle che sono le strutture complesse di psicologia, evidentemente con un particolare riferimento a quella in cui opero io, tenete sempre presente questo riferimento contestuale. Sono cinque fondamentalmente le caratteristiche peculiari che vorrei portare alla vostra attenzione. La prima l'integrazione dei processi e delle funzioni, la seconda la trasversalità organizzativa, ne rivedremo poi una alla volta, la terza la trasversalità clinica, la quarta l'attenzione ai processi di lavoro e centralità dei bisogni del cittadino e l'ultima il governo clinico dei processi e delle funzioni, ne rivediamo una alla volta. Partiamo dalla prima integrazione dei processi e delle funzioni, sostanzialmente cosa vuol dire? vuol dire che le strutture complesse operano all'interno della missione aziendale e dei processi di budget aziendali, ma all'interno di questa cornice operano soprattutto in integrazione sia con i servizi ospedalieri che con i servizi territoriali aziendali, erogano principalmente i livelli essenziali di assistenza, nel nostro caso aggiuntivi provinciali del Trentino, lavorano nella programmazione e attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione, nella valorizzazione delle risorse umane aziendali, che è un'altra fetta di interventi che è legata anche all'attività delle unità operative di psicologia, per la verità non molto sviluppata, quest'ultima, ma ci sta. Trasversalità organizzativa, seconda peculiarità, seconda caratteristica, cosa vuol dire trasversalità organizzativa? Vuol dire erogare prestazioni a tutte le parti aziendali integrandosi nei processi secondo un modello a matrice, un modello matriciale, questo è il modello sostanzialmente se dobbiamo fare un riferimento così puramente iconografico, il modello matriciale è quello che sostanzialmente ci ispira, con una forte focalizzazione sui processi di lavoro, garantisce la trasversalità organizzativa, garantisce la continuità assistenziale perché ci consente di lavorare sia dentro l'ospedale che fuori l'ospedale o dentro e fuori o fuori e dentro, con le stesse persone e con la stessa organizzazione che gestisce tutto e infine ci consente di allocare in maniera appropriata le risorse professionali, le risorse ripersonali in relazione ai bisogni dell'utenza e degli obiettivi, per la verità quest'ultimo punto al momento piuttosto che allocare diciamo che ci consente di raschiare il fondo del barile in maniera uniforme a seconda di quelle che sono le indicazioni aziendali. Terzo punto, trasversalità clinica, quindi trasversalità organizzativa ma anche clinica perché questo vuol dire coniugare la clinica dal momento della promozione della salute e della prevenzione del disagio a tutti i livelli fino all'intervento clinico della presa in carico e dell'intervento terapeutico, significa operare quindi sia sul versante della cura che su quello della costruzione della salute e rivolgersi ai bisogni psicologici dell'intero arco vitale dell'individuo garantendo nella qualità e l'appropriatezza nel senso che gli interventi delle unità operative sono sia rivolti ai minori che agli adolescenti che agli adulti e agli anziani. Focalizzazione sui processi del lavoro e centralità del cittadino, ecco questo è una cosa che io tengo parecchio perché è un elemento secondo me importante a cui la psicologia dovrebbe fare riferimento nella riorganizzazione e cioè che soprattutto nei territori, nei distretti, nel territorio l'assistenza è fino adesso molto focalizzata sulle strutture, cioè sul fatto che tutto competenze, personale ed altro debba far riferimento o essere assegnato a quella struttura complessa piuttosto che a quell'altra, piuttosto che a quell'altra. Ogni struttura si denomina in maniera differente, in essa sono allocate differenti risorse di personale o di altro genere e ogni struttura ha delle finalità, degli scopi di intervento e serve dei cittadini che però sono riconosciuti solo in parte, cioè li serve per la parte corrispondente che combacia alle proprie competenze. L'attenzione ai processi, il modello matriciale di cui parlavo prima, ci ha consentito e ci potrebbe consentire invece di riportare al centro non tanto le strutture ma i percorsi, i processi di lavoro che si intersegano con le varie strutture. Ma quando io ho bisogno, quando un cittadino, io stesso ho bisogno di un intervento, entro all'interno di un processo, non tanto di una struttura e quel processo trasversale incrocerà poi magari varie strutture, dipende evidentemente. Però credo che la nostra attenzione deve essere molto focalizzata sul miglioramento della qualità del nostro lavoro nei processi, perché questo è fondamentale per quello che riguarda soprattutto i cittadini utenti che in questo ci stanno dentro. E infine l'ultimo aspetto che riguarda il governo clinico dei processi e delle funzioni è fondamentale. A cosa serve una struttura? Una struttura confessa serve sostanzialmente a gestire e monitorare in maniera omogenea sul territorio e uniforme a livello professionale i livelli prestazionali degli psicologi che devono essere garantiti a tutti i cittadini. È necessario avere un sistema informativo proprio che monitori l'attività tramite l'uso di indicatori centrati sulla domanda del paziente e non solo sulle risposte, sulle prestazioni. Bisogna avere un'attenzione particolare ai percorsi e un'attenzione alla valutazione di efficacia, dopo diremo due parole in più sulla valutazione di efficacia degli esiti di salute. E infine il governo clinico per noi significa sostanzialmente capacità di costruire modelli gestionali sostenibili. Non ci sono modelli gestionali una volta per tutte che vanno bene sempre. Io da quando sono direttore ho già cambiato tre volte i modelli gestionali delle strutture territoriali, dei centri territoriali della mia unità operativa per quello che riguarda l'accoglienza della domanda, per quello che riguarda la risposta di alcuni settori, perché bisogna adeguare sempre la propria modalità di risposta a quelli che sono da una parte i bisogni nuovi, dall'altra parte le risorse. E la sostenibilità sta solo in questo continuare a lavorare su questi due piani. Ecco perché fondamentalmente mi occupo di istituzioni e di colleghi e non di pazienti. Quindi questi sono i due aspetti. Ecco, e qui capacità di costruire modelli gestionali sostenibili e cioè di erogare i diventi essenziali di assistenza con un corretto bilanciamento tra l'uso delle risorse, cioè quanto mi costa in termini economici ma anche di tempo, e l'efficacia degli esiti. E cioè quella che si chiamano la proprietà professionale o organizzativa in questo caso. E allora sostanzialmente, sì, più che altro vado un po' avanti, vado direttamente agli esiti. Allora per quello che riguarda gli esiti in particolare ci siamo messi a lavorare da qualche anno, sono mai più di dieci anni, e abbiamo costruito sostanzialmente un'attività di valutazione rutinaria degli esiti che utilizza un metodo di rilevazione di tipo osservazionale, di rilevazione dell'efficacia di tipo osservazionale con un modello prima-dopo, cioè con una somministrazione di due questionari autovalutativi prima e dopo l'intervento, la pensi in carico-terapeutica. Il costrutto che rileviamo è quello di esito clinico, soprattutto considerandolo come riduzione dell'impatto sintomatologico e del funzionamento. Il questionario, il self-report che utilizziamo sono l'SCL e il Coreo e i dati sono trattati con semplici analisi statistiche e applicazioni di indici di impatto di cambiamento, di attendibilità del cambiamento, sia a livello gruppale ma anche di singoli individui. Per cui, diciamo alcune altre cose, allora siccome organizzativamente quali sono i problemi che si pongono ad una struttura, qualunque struttura voglia nel servizio pubblico organizzare un sistema di rilevazione degli esiti, degli interventi, in questo caso psicoterapeutici, in maniera rutinaria. Allora, innanzitutto bisogna pensare che cosa misuro, qual è lo strumento che misuro, quello la cui efficacia misura. Lo strumento la cui efficacia misuriamo non è il trattamento standard ma quello che normalmente viene erogato nei setting del servizio sanitario. Anche se adesso la ricerca di APT della Gran Bretagna, di cui parlava prima il direttore del DSM, ha portato a rilievo internazionale l'efficacia degli interventi anche brevissimi di tipo psicoterapeutico. Ecco, diciamo che questi dati erano conosciuti comunque anche prima, se non avrebbero neanche cominciato in Gran Bretagna e i nostri dati in questo lo confermono, come adesso vedrete. Il case mix a cui si fa riferimento non è soggetto, cioè la casistica, non è soggetto a specifici criteri di selezione, come avviene di solito invece nelle ricerche di valutazione di efficacia, perché sono tutti i pazienti che arrivano e che vengono presi in carico, quindi non c'è una preselezione. I dati sono raccolti per scopi clinici e amministrativi e secondariamente utilizzati a scopo di ricerca. La raccolta dei dati è continua, cioè continua tutto l'anno, non ci sono tutti i periodi particolari e in questo modo evidentemente forte è il rischio di diminuire la validità interna, diciamo, ma senz'altro dei dati, dei nostri risultati, ma senz'altro ci aiuta invece nel migliorare la loro validità esterna e quindi la loro possibilità di essere replicati e diffusi. Ecco, diciamo che vi faccio vedere velocemente questa è l'ultima diapositiva, non è l'ultima diapositiva, ma è l'ultima rilevazione che io ho sull'intero, questi 351 per esempio nel 2012 sono i pazienti di cui abbiamo rilevato l'esito del trattamento in entrate e uscita, questo è il coreon come strumento di rilevazione di esito e come potete vedere la riduzione complessiva del punteggio del coreon è da 1.53 a 0.77, questo sono i 351 pazienti di cui abbiamo rilevato l'ingresso ed uscita e vi posso dire che è una riduzione statisticamente significativa e non solo anche clinicamente significativa, non entro nel merito evidentemente degli indicatori statistici e clinici di esito che noi applichiamo ma perché non è questo il momento per farlo, vi faccio velocemente vedere questi 351 mediamente 36.9, l'età era tra i 16 e i 77 anni, sesso prevalentemente del signore, 72 e 9%, le diagnosi ICD10 in percentuale le vedete lì, quelle preponderanti quantomeno, la percentuale disfunzionali e funzionali sono i pazienti che a tempo zero, cioè all'inizio del trattamento erano sotto la soglia di cutoff del questionario utilizzato e i pazienti disfunzionali sono quelli che a tempo zero, cioè nella prima misurazione erano sopra il cutoff del questionario utilizzato il disfunzionali 82.6%, il numero medio delle sedute di trattamento con i quali si sono ottenuti questi benefici è 11 sedute e il range delle sedute va da 4 a 58. Ecco, era semplicemente per farvi vedere un esempio di come si possa organizzare e monitorare poi come vengono utilizzati questi dati, sono stati utilizzati anche questi per costruire l'EA perché noi sappiamo perfettamente quante sedute di trattamento ci vogliono per far migliorare una situazione di ansia e di gestione, quindi possiamo, abbiamo, come dire, la possibilità, diciamo che l'85% migliora entro X sedute in alcuni contesti cioè è possibile fare delle previsioni, sono sempre probabilistiche, dico l'85%, c'è un 15% che non migliora e che ha bisogno di un altro ciclo di intervento o di integrazione con altri interventi però questo, come dire, già incomincia a rendere più possibile per noi la possibilità di ragionare un attimino sui percorsi in maniera, diciamo, io già quando comincio so quando posso finire non è una cosa molto semplice per la psicologia cominciare una presa in carico terapeutica sapendo quando potrai finire o programmando una fine e quindi sapendo prima quanto ti costa e definendo gli obiettivi quindi sapendo quanto costa raggiungere questi obiettivi e infine, per passare poi la parola da Lanzari psicologia e spending review è un binomio possibile, senza dubbio è un binomio possibile e Lanzari adesso ci spiegherà come questo sia possibile ma soprattutto dovrebbe essere realizzabile, realizzato e qui sono presentate alcune cose in particolare la ricerca di cui parlava il direttore del dipartimento prima che è stata per tra l'altro finanziata proprio con una spending review e soprattutto non solo con i soldi spending review ma con i soldi che praticamente lo Stato inglese non versa come contributo di disoccupazione a tutti gli ansiosi o depressi che vengono trattati e che possono ritornare a lavorare prima che se non fossero stati trattati quindi viene sospesa l'erogazione, che qui in Italia non c'è ma che è in Gran Bretagna, sì del sussidio di disoccupazione quindi è in questa ulteriore forma di finanziamento che sono stati stanziati milioni di stradine nel 2007 per questo IACPT progetto in inglese beh, concludo con questa ultima diapositiva dicendo che sostanzialmente quelle che al momento attuale la nostra defrazione quelli che sono i limiti, le criticità ma anche le cose positive cioè la nostra esperienza ci ha portato di sicuro ad accorgeci che è possibile sperimentare modelli gestionali sostenibili cioè capaci di erogare livelli di assistenza con un corretto bilanciamento è evidente risorse ed efficacia è evidente che però prima di far questo bisogna avere i mattoni con cui costruire insomma tutti gli strumenti che ti consentono di sapere quanto spendi prima di tutto e se raggiungi dei risultati quanto li raggiungi, come, con chi ecco questo è tutto deve essere costruito prima e poi la visione culturale che ha sostenuto questo modello organizzativo e che lo sostiene ancora è quella della necessità di sviluppare un'idea di assistenza psicologica per i cittadini svincolata dai tradizionali contenitori la salute mentale per capirsi o i consultori che non sono più i soli rappresentativi della domanda di salute psicologica sono strutture quelle dei centri di salute mentale dei consultori nate negli anni 70 con una filosofia degli anni 60 che a mio avviso in questo momento non sono più in grado di interpretare i bisogni della popolazione ma soprattutto di rispondere le finalità evidente la finalità è quella di aumentare l'offerta per i cittadini la possibilità di scegliere dei servizi a cui rivolgersi assicurando una reale qualificata equità d'accesso alle prestazioni psicologiche guardate che questo è un dato veramente rilevante evidentemente non è un dato importante perché dal punto di vista diciamo organizzativo non lo è ma da quando esistono le strutture di psicologia con delle proprie sedi che erogano prestazioni di presa in carico laddove queste esistono c'è un'utenza che si rivolge direttamente ai servizi di psicologia proprio perché non sono di salute mentale questo io adesso non so qui se ci sono dei colleghi ma proprio perché c'è un modello di riferimento culturale che è cambiato che è completamente diverso non tanto perché ci siano evidentemente chissà quali difficoltà ma a rivolgersi a un servizio piuttosto che un altro ma se tu dai la possibilità ai cittadini di scegliere se tu dai la possibilità di introdurre nella società dei modelli culturali di risposta differenti da quelli storicamente determinati beh questo abbiamo visto determina degli spostamenti estremamente importanti di richiesta di domanda di intervento e dà la possibilità di aprire le nuove dimensioni di risposta ai nostri ai nostri utenti e ai cittadini scusate se sono stato molto veloce grazie a tutti